Chi è Linus? Come dobbiamo fare Linus? Come puoi fare amore? Stasera c'è davvero il fatto che lo vedo pure io e prendilo l'hai visto pure tu si l'hai visto e prendilo ciao Milady 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 Bambolina prendilo scusami e che ti dice di non prenderlo futuro? Eh prendilo vai prendilo e che ti ha detto di non prenderlo? Linus non ti darà pace per troppo io lo so Linus salterà sul quadro quanto prima e che ti dice di non prenderlo? Linus? 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 Linus?